Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. In descrizione ho indicato il link del mio canale youtube dove andate a trovare tantissime video lezione di chimica generale. Oggi parliamo di elettronegatività. L'elettronegatività è un parametro estremamente utile che può indicarci se dopo la formazione di un legame abbiamo a che fare con una molecola abbiamo a che fare con un legame puro oppure un legame eteropolare o un legame ionico. Che cos'è l'elettronegatività? L'elettronegatività è la capacità che ha un atomo di addensare verso di sé l'orbitale o gli orbitali di legame dell'atomo a cui esso è legato. L'elettronegatività è funzione del potenziale di ionizzazione e dell'affinità elettronica che ha un atomo. Pertanto un atomo tendenzialmente andrà ad avvicinare verso di sé la coppia o le coppie di elettroni dell'atomo a cui è legato. Quando parliamo di molecole biatomiche tanto maggiore la differenza di elettronegatività tanto maggiore sarà la polarità della molecola ma questo aspetto vale soltanto per molecole biatomiche. Infatti quando andiamo a considerare molecole formate da più di due atomi in questo caso sarà la geometria molecolare a indicarci se la molecola con cui abbiamo a che fare è una molecola polare o meno. Io ho parlato precedentemente di affinità elettronica o di potenziale di ionizzazione. Sappiamo che l'affinità elettronica è la tendenza che ha un atomo ad assumere un atomo neutro isolato ad assumere verso di sé uno o più elettroni. Ma non va assolutamente confusa con l'elettronegatività in quanto anche se questi due concetti esprimono la tendenza di due atomi a attirare verso di sé degli elettroni dobbiamo dire che l'affinità elettronica è l'energia liberata in seguito a diciamo all'assunzione dell'atomo da parte di uno più elettronico. L'elettronegatività invece non esprime alcun valore di energia e dipende esclusivamente quindi a funzione del partner con cui va a legarsi. In buona sostanza perché un elemento è più elettronegativo dell'altro? Questo è dovuto alla densità di carica elettrica nell'unità di volume. Maggiore è questa densità di carica elettrica maggiore sarà la sua elettronegatività. Dopo che si è formato il legame che cosa avviene? Avviene che tra due atomi con differente elettronegatività si andrà a generare quello che viene chiamato surplus di energia che va a manifestarsi con delle cariche elettrostatiche. Prendiamo in considerazione l'idrogeno e l'acido fluoridrico. Come possiamo vedere l'acido fluoridrico è costituito da idrogeno che ha un'elettronegatività pari a 2.2 e il fluoro che è l'elemento più elettronegativo ha elettronegatività pari a 3.98. Che cosa accade? Accade nel momento in cui si va a generare il legame chimico il fluoro che è un elemento più elettronegativo dell'idrogeno tenderà ad assumere verso di sé carica elettrica. Attenzione parliamo di carica elettrica ma non di assunzione totale di un elettrone. Che cosa accade? Che andando a spostare carica elettrica negativa verso il fluoro quest'ultimo andrà ad aumentare il suo volume e che pertanto ci sarà una diminuzione della densità di carica elettrica per cui il fluoro andrà a diminuire la sua elettronegatività. Il discorso è esattamente contrario all'idrogeno il quale poiché ha perso tra virgolette carica elettrica andrà a diminuire il suo volume, aumenterà la densità di carica elettrica per cui la sua elettronegatività sarà maggiore rispetto all'atomo isolato. Questo surplus di energia si manifesta con la formazione di addensamenti di cariche elettriche. Ora indichiamo la molecola in questo modo. Quindi prendiamo l'idrogeno legato al fluoro. Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che il fluoro è più elettronegativo pertanto avremo un addensamento di cariche elettriche quindi delta meno sul fluoro. L'idrogeno che si è scoperto avrà quindi un addensamento di carica elettrica inferiore e quindi avremo un delta più, vi viene indicato come dipolo. Bene, che cosa accade? Si è visto sperimentalmente un fenomeno particolare e cioè se io vado a determinare l'energia di legame considerando l'acido fluoridrico come se avesse un legame diciamo puro e senza interazioni il valore dell'energia sarà invece inferiore al valore di energia che è stato definito sperimentalmente. Questo perché? Perché possiamo definire questo tipo di legame come se fosse un legame misto in quanto che cosa abbiamo? Abbiamo la formazione di un legame covalente ma in più queste cariche elettriche quindi queste cariche elettrostatiche che faranno? Andranno ad attrarsi uno con l'altro per cui questa attrazione non è altro che quel surplus di energia che ha determinato una maggiore energia di legame rispetto alla molecola presa come standard di legame. Quindi questo è un aspetto estremamente importante. Quindi possiamo definire quasi un legame di tipo misto poi vedremo meglio questi argomenti quando parleremo di legami covalenti polari. Come dicevo precedentemente l'elettronegatività non è un valore che è facilmente determinabile per cui si è ricorso alla formazione di alcune scale di elettronegatività. Io ve ne indico due non entriamo nel merito ma le indichiamo giusto per capire quali sono le differenze. La prima scala di elettronegatività che vi propongo ed è quella magari più intuitiva che possiamo quindi immaginare è la seguente cioè che Malikian propose che l'elettronegatività che si indica con questa lettera che viene chiamata chi per esempio l'elettronegatività di A è pari alla media aritmetica di che cosa? Delle energie di ionizzazione e dell'affinità elettronica così come avevamo detto precedentemente. quindi possiamo indicare l'energia di ionizzazione più l'energia legata all'affinità elettronica fratto due quindi questo diciamo ci può sembrare come un dato diciamo più comprensibile rispetto alla scala che adesso indichiamo che è quella di Pauling che è la scala di elettronegatività che troviamo in tavola periodica Pauling che cosa ha fatto in definitiva ha preso come elemento di riferimento l'idrogeno e gli ha attribuito convenzionalmente un valore di elettronegatività pari a 2,2 2.21 e attraverso una serie di calcoli possiamo determinare il valore di elettronegatività di un composto di un elemento A rispetto all'idrogeno applicando questa relazione per cui l'elettronegatività di A quindi chi di A meno chi dell'idrogeno che abbiamo detto essere 2.2 è uguale a 0,102 che è una costante definita da Pauling fratto questo delta questo delta viene chiamata energia di risonanza ionico covalente non entriamo nel merito di questa formula però possiamo dire che questo delta non rappresenta altro che quel surplus di energia di energia che abbiamo menzionato precedente e cioè il valore atteso non è il valore sperimentale quindi l'energia di legame è maggiore quando abbiamo a che fare quindi con la formazione di un legame covalente e in questo caso sono le cariche elettrostatiche che attirandosi una con l'altra andranno ad aumentare l'energia di legame e quindi rendere il legame chiaramente più stabile detto questo rapidamente vediamo come varia l'elettronegatività in tavola periodica questo argomento preferito trattarlo singolarmente in quanto andarlo a trattare assieme il legame covalente polare poi la lezione si sarebbe eccessivamente appesantita e si sa che le lezioni estremamente lunghe sono particolarmente noiose allora innanzitutto cosa possiamo notare che a sinistra abbiamo i valori più bassi di elettronegatività che fanno riferimento ai metalli alcalini alcalino terrosi e a destra abbiamo i valori più alti di elettronegatività che sono per esempio gli alogeni il fluoro è l'elemento con maggiore elettronegatività seguito dall'ossigeno dall'azoto e dal colore quindi l'elettronegatività aumenta da sinistra verso destra e diminuisce lungo il periodo questo comportamento è un comportamento tipico uguale anche all'affinità elettronica solamente abbiamo detto e ripetiamo che l'affinità elettronica rappresenta l'energia liberata per acquisire uno o più elettroni mentre l'elettronegatività è una scala che convenzionalmente si è determinata e dipende soprattutto dal tipo di partner con cui si lega un conto è legarsi idrogeno e fluoro un conto è legarsi per esempio fluoro e ossigeno chiaramente i valori di elettronegatività pur essendo quelli definiti poi possono variare nel momento in cui si va a definire la molecola stessa quindi gli elementi del primo gruppo 1A 2A che sono dei metalli alcalini e alcalino terrosi hanno quale caratteristica hanno un valore basso di energia di ionizzazione e un alto valore di affinità per elettrone mentre se andiamo verso il 7A cioè i componenti alogeni ossigeno zolfo eccetera questi presenteranno un elevato valore di affinità elettrone quindi una grande capacità di poter assumere uno o più elettroni e un bassissimo potenziale di ionizzazione un altissimo potenziale di ionizzazione cioè sarà molto più difficile strappare allontanare al fluoro al coloro per esempio l'ossigeno un elettrone piuttosto che al litio o al sodio e termino dicendo che l'elemento meno elettronegativo è il francio il più elettronegativo in tavola periodica è il fluoro bene io ho terminato la lezione la prossima lezione andremo a spiegare il legame covalente polare e il legame covalente eteropolare in questo modo una volta compreso il concetto di elettronegatività risulterà più semplice andare a capire come si come sono questi tipi di legami se la lezione vi è piaciuta iscrivetevi al mio canale oppure schiacciate un like